Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, patch 8.1 in download in questi minuti ragazzi. È arrivato il downtime dei server, le novità sono assurde e tantissime. Andiamo subito a parlare della girosfera ragazzi. La girosfera, l'abbiamo già vista un paio di giorni fa, questo veicolo monoposto si troverà negli avamposti di spedizioni e vicino al bottino degli accampamenti dei pirati. Potremo utilizzare il rampino e anche l'accelerazione per lanciarci da un albero o all'altro e per buttarci giù nei dirupi. Uè, svegliati! 300 i punti salute del veicolo. Rarità per il fucile d'affanteria comune rimossa. Fucile d'assalto pesante modificata la rarità da raro, epico e leggendario a comune, non comune e raro. Stiamo parlando dell'FDA. Hanno modificato anche i danni in base alla rarità 36, 38, 40. Dimensione massima dello stack delle granate appiccicose da 10 a 6. Ma la grande novità ragazzi è per i distributori automatici. Non avranno più il costo dei materiali. Cioè i distributori ci daranno un'arma gratis. Una sola però, prima di sparire definitivamente. E hanno rimosso addirittura i distributori comuni e non comuni. Hanno rimosso la torretta leggendaria dai distributori leggendari. E hanno modificato anche le mappe del tesoro. A terra ridotta la possibilità dallo 0,53% allo 0,27% e nel bottino dal 3,25% all'1,65%. Per quello che riguarda invece il matchmaking nel gioco hanno migliorato il cross platform tra Xbox One e PS4. Dove sarà però necessario attivare una funzione con scritto crossplay. Probabilmente nelle impostazioni. In modo da poter far interagire le due console. I giocatori di Switch che combinavano invece il matchmaking con i giocatori da mobile. Dovranno, no, migliorano anche il cross platform tra i giocatori di Switch e i giocatori di mobile. Hanno ridotto un po' il tempo in cui la dub infinita durava nella lobby. Quindi hanno modificato l'eliminazione per chi infligge l'ultimo danno in caso di disconnessione del proprio giocatore. Quindi se voi danneggiate una persona, questo si butta giù o gli cade la connessione, vi attribuiscono ugualmente la kill anche se non lo avete killato. Ci sono delle animazioni personalizzate aggiunte per quando consumate le bende, i medikit, la pozione scudo piccola, lo shieldone, il succo slurp e la chug. Staremo a vedere ragazzi ovviamente quali saranno queste modifiche. Nelle modalità a tempo limitate ritorna o meglio ci dicono benvenuti alla fuga. E infatti è quella che avevamo già visto quest'estate. In questa modalità i giocatori si affrontano per trovare un gioiello, ci ricordiamo del lama di diamante. E lo portano su uno dei furgoni per fare una fuga prima degli altri giocatori. Sappiamo che il gioiello si trova nelle cassaforte speciali sparse per la mappa. Ci saranno sempre quattro gioielli perché si giocherà con quattro squadre contemporaneamente. Un sacco di migliorie ragazzi anche per quanto riguarda le performance del gioco. Migliorate di brutto le prestazioni su Xbox One. Migliorate anche su Nintendo Switch. Ottimizzato anche il cannone, quelli che ci sono sulla nave e negli avamposti dei pirati per un più facile uso. Migliorate le prestazioni della barra veloce. Spero che abbiano sistemato il fatto ad esempio di poter switchare più velocemente le armi e sistemarle negli slot corretti. Hanno aggiunto un nuovo effetto audio per i palloni a mezz'aria. Hanno invece ridotto l'audio per la distruzione di piccoli oggetti d'ambiente come le sedie, i letti e le cagatine così. Rimosso il riverbero per fortuna dei colpi del piccone, modifiche anche all'interfaccia utente ragazzi. Hanno aggiunto i dettagli a comparsa per gli indicatori nella mappa con l'elenco delle azioni che è possibile eseguire sull'indicatore. Quindi probabilmente riusciremo ad allargare il nostro menu per quando possiamo pingare qualcosa e giochiamo in team. Hanno modificato anche la visibilità degli indicatori che ora sono ordinati per distanza. Hanno aggiornato gli indicatori della minimappa in modo che corrispondono agli indicatori nel mondo. Potremo usare anche gli indicatori nei cespugli adesso e modifiche anche alle targhe di squadra. Quindi i tag e le frecce perché diventano molto più trasparenti adesso quando utilizziamo il mirino. Quindi non ci danno fastidio i nostri compagni di squadra. Possiamo fare una figata adesso. Copri tutto in fretta. Da adesso possiamo applicare una copertura a tutti gli slot scegliendo applica a tutti. Quindi potremmo avere un'unica skin se ci piace per le armi e in un colpo solo assegnarla a tutti. Modifiche anche o meglio correzioni di bug per cui ad esempio il pacchetto lusso l'ultima skin del pass battaglia viene visualizzato nella schermata delle sfide insieme ai pacchetti di cuore nero e ibrido. Le coperture vengono visualizzate in anteprima sulla versione alla massima risoluzione del veicolo o dell'arma nella lobby. Quindi se abbiamo tutto al top di risoluzione vediamo anche la camo. Hanno messo nella modalità replay il percorso dell'autopus durante il tragitto della mappa. Hanno introdotto per quello che riguarda il mobile una funzione di messa a punto del fuoco automatico. In questo modo potrete regolare la messa a punto per ogni arma. Hanno aggiunto anche l'occlusione al rumore dei passi su android quindi dovrebbe essere meglio la cosa e corretto un problema dove la corsa automatica non andava in scatto se scatto predefinito era comunque selezionato. Tante modifiche ragazzi anche per la modalità creativa arrivano le nuove isole a tema, le nuove opzioni di gioco offensiva e difensiva. Hanno aggiunto delle regole che permettono di personalizzare di più ancora l'assetto della tua squadra. E le nuove isole avremo il banco di sabbia e il numero di isole di giocatori per il server è stato ridotto da 16 a 8. Insomma ragazzi un sacco di news per questa patch che ci porterà appunto già nella terza settimana della season 8 di Fortnite. Volevo anche un attimo parlarvi di armi e oggetti nella modalità creativa dove hanno risolto scusatemi un problema dove gli esplosivi telecomandati rimanevano attaccati al giocatore se li lanciavamo mentre eravamo travestiti da cespuglio. Quindi cioè tu tiravi un esplosivo dell'arco di contato e esplodevi di prepotenza e le modifiche anche per il telefono nella modalità creativa da adesso gli spray si illuminano quando punti il tuo telefono verso di essi. In questo modo puoi eliminarli senza problemi. E quando usi il telefono per ingrandire o rimpicciolire un oggetto con l'affiancamento griglia abilitato puoi mantenere il pulsante premuto in modo che ingrandirà o rimpicciolirà ripetutamente l'oggetto. Ci sono veramente anche i nuovi fabbricati raga la galleria ambiente e le baite aggiunte i carrelli minerari le unità pavimento di lava sono state aggiunte e insomma ragazzi un sacco di cose anche per la modalità creativa tra cui anche la nuova girosfera. Beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando lasciate un bel pollicione in su codice creator xiu derone e iscrivetevi in tantissimi al canale noi ci vediamo in live ciao Grazie a tutti